Sindacolo Russo, siamo qui in corso Unione Sovietica 220D all'inaugurazione del nuovo centro antiviolenza. Un momento importante per la città, significa che punta molto sul contrasto alla violenza, soprattutto visto le cronache purtroppo recenti. Sicuramente il tema della violenza di genere è un tema davvero emergenziale nel nostro paese. I fatti recenti di cronaca da quelli di Giulia, ma di tutte le vittime di femminicidio stanno a dimostrare che questo è un paese che ha bisogno di costruire una cultura profonda che aiuti le donne a uscire dal tunnel del sopruso e della violenza di genere, avere il coraggio di denunciare anche i piccoli segnali ben prima che degenerino e credo davvero che come città di Torino aver aperto un centro antiviolenza così importante sta a dimostrare quanto alla nostra amministrazione stia a cuore questo tema e soprattutto stia a rappresentare un punto solido di aggancio per tutte le donne che hanno il desiderio di poter cambiare vita e di uscire da un tunnel che in molti casi vedono come chiuso. Assessore, nel suo intervento ha parlato di collaborazione. Ci vuole spiegare il motivo e anche la scelta di aver usato questa parola. Sì, collaborazione è una parola chiave per la città di Torino quando ci occupiamo di contrasto alla violenza di genere. Torino da più di vent'anni ha un coordinamento che si chiama Coordinamento contro la violenza sulle donne, CCWD, che vede insieme il comune, le aziende sanitarie, le associazioni femminili e femministe che cooperano attraverso i loro servizi, i loro centri antiviolenza, per una strategia condivisa, per uno scambio di saperi e di esperienze, per lavorare tutte e tutti insieme per lo stesso obiettivo che è quello di debellare la violenza di genere in tutte le sue forme, psicologica, culturale, economica e ovviamente anche fisica. Questo luogo, il coordinamento, si esprime attraverso tanti altri luoghi e certamente il centro antiviolenza del comune di Torino in sé rappresenta questa capacità di lavorare insieme. Allora Oriana, oggi è una grande emozione, immagino vedere questo grande sogno che diventa realtà, ma cosa succederà qui dentro? Chi troverà ascolto e una risposta ai propri bisogni? Allora, questo è un centro che abbiamo desiderato tanto, perché noi prima eravamo in Via Trana, era un po' piccolino, ma le donne aumentavano, quindi anche noi non sapevamo dove poterle accogliere. Il centro antiviolenza sono luoghi in cui le donne si rivolgono per chiedere aiuto e trovano delle operatrici specializzate che possono incominciare a camminare insieme a loro, trovano delle psicologhe e trovano delle avvocate. E quindi a seconda dei percorsi che la donna deve affrontare nella propria vita, anche dal punto di vista giuridico e giudiziario, può trovare delle persone che sono preparate a sorreggerla e a supportarla. Siamo in compagnia dell'avvocata Anna Ronfani, vicepresidente del Telefono Rosa. Allora, dal vostro punto di vista di Telefono Rosa, l'inaugurazione di un centro antiviolenza come questo nella città di Torino, cosa significa? Significa moltissimo perché è la prosecuzione di un'esperienza di impegno che la città di Torino già da moltissimi anni ha radicato sul territorio, con ottimi risultati, con collaborazioni di rete, anche con noi di Telefono Rosa Torino, tant'è vero che due nostre avvocate del nostro staff legale sono consulenti giuridiche e fanno accoglienza anche all'interno del centro antiviolenza della città. Ma sono tanti anni che la città di Torino fa questo servizio e siamo tutti molto grati all'amministrazione per questo. E contribuiamo a un obiettivo comune perché abbiamo intenti, ideali e obiettivi assolutamente identici. Siamo qui con Caterina Marinelli, presidente dell'Associazione Verba. Secondo te qual è l'importanza di questa giornata, di questo evento? Sì, sicuramente per l'Associazione Verba che da anni si occupa delle donne con disabilità e vittime di violenza, di discriminazione intersezionale, è importante essere qui proprio per confermare quanto i centri antiviolenza debbano essere accessibili a tutte le donne, a tutte quelle che hanno bisogno di chiedere aiuto, quindi devono poter chiedere aiuto dove, anche le donne con disabilità devono poter chiedere aiuto dove tutte le donne chiedono aiuto. E' fondamentale appunto quindi essere qui in un luogo così accessibile a livello strutturale ma anche a livello di accoglienza. In più, dato che la violenza sulle donne con disabilità si declina in svariati modi, in svariate modalità e qualora le donne avessero bisogno di approfondimenti, servizi diversi e vari, potranno sicuramente rivolgersi a noi, alle nostre collaboratrici e alle persone che lavorano da verba.